Come ovvio la magistratura farà tutta la sua parte, noi siamo totalmente a disposizione dei vari uffici giudiziari che stanno indagando e procedendo con le indagini, dal nostro punto di vista naturalmente questo è un compito che tocca alla magistratura, noi diamo una mano e la massima responsabilità, oggi il nostro compito è ripostruire la regola d'arte con il massimo coinvolgimento di tutte le strutture che possano evitare un risperperimento e in alcune, non in tutto, i vicevi del passato ci sono state e quindi l'autorità nazionale anticorruzione è in prima linea con il presidente Cantone assieme al commissario Errani pronti a fare tra nostra parte con grande determinazione.